Uno, due e tre! Taglio del nastro e inaugurazione della nuova gestione della storica delegazione dell'Automobile Club di Arezzo di Viarno che ha rinnovato e riorganizzato i locali di Piazza Zucchi. Arezzo rappresenta una grossa realtà per l'Automobile Club della Toscana perché è sempre stato un Automobile Club molto vivo, molto importante anche sul profilo sportivo e noi teniamo molto allo sport automobilistico e quindi riteniamo che lo sport sia elemento di educazione della mobilità, dell'automobilismo italiano in generale. Un punto di riferimento per tutti coloro che hanno necessità di svolgere qualsiasi tipo di pratiche automobilistiche, rinnovi patenti e pagamento tasse automobilistiche. Questa delegazione di Piazza Zucchi di Viarno è una delle nostre prime delegazioni di Automobile Club Arezzo però ha una nuova gestione, si rinnova, si riorganizza grazie alla presenza della società GBG SRL con la nostra nuova delegata Silvia Barbieri. Quindi è una delegazione che è il fiore all'occhiello della città in cui investiamo molto e è una delegazione strategica sia come punto logistico che come anche volume d'attività. La nuova gestione è stata affidata alla società GBG che da anni gestisce anche la vicina agenzia di Sara Assicurazioni. Noi già collaboriamo con ACI da circa 30 anni perché la Sara Assicurazioni è l'assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club che è la più grande associazione al mondo di consumatori. Quindi è la possibilità di dare un servizio completo agli automobilisti sia in termini di sicurezza con l'assicurazione sia per l'adempimento delle pratiche legate alla mobilità e tutta la burocrazia che c'è intorno.